allora ci sarà l'ultima apertura della ball ma calmati un momento questa è una roba incredibile ragazzi per fare un video ci vuole la bellezza di tre ore questo qua c'è ma venendo io ma che c'entro io cioè quando ci sono queste lei va fuori scrivetelo anche voi che forse qualcuno di voi mi può capire che quando arriva un pacco con delle lol io li voglio aprire subito ma ho capito ma calma dai apri sta ball su via questa è l'ultima ball che aprirà lui e me lo sta facendo apposta perché sa che io voglio che si spiccia già andiamo ad aprire questa simpatica aspettate che vi abbasso giù intanto l'acqua è diventata congelata semmai dovessimo trovare che stai facendo? ah ok se è giusto eh purtroppo non capita io non so perché le hanno fatte talmente compatte aveva paura che qualcuno le rubasse l'indizio è sicuramente di una lol che non abbiamo esatto occhiali da sole e ghiaccio e l'indizio è cool cool has ice scusate il mio il mio inglese che fa schifo scusate che mi metto a poco vabbè inutile farvi vedere gli soliti stickers che vedete qui sotto via sì io ce l'ho visto da qualcun'altra in qualche altro video ma non mi ricordo chi è io vedo i video ma non me ne ricordo chi sono in realtà scusate oh è partita la borracchina borraccia tattarata molto carina della birra così grigia sembra la borraccia di living baby quasi però quest'è su lilla sotto avanziamo non so chi può essere non lo so non lo so proprio oddio fa che snow angel speriamo sì perché è ghiaccio mamma mia speriamo sia snow angel vai 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 l'angelo sì questa qua che a me piace tantissimo mi piace questa 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 perché è ghiaccio mamma mia se escono delle scartine un po' stivaletti tipo quelli da neve è lei fa vedere dai su aspetta ragazzi vai gira che è un meo no dai tirami giù fa vedere sì è snow angel sì è snow angel vedete i stivali da neve sì 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 sono felicissima io le apro e lei è contenta che bello io ringrazio la giochi preziosi perché mi ha dato la possibilità di collaborare e mi ha dato la possibilità di trovare le mie preferite io sono veramente contenta adesso l'unica che mi manca da trovare è bonbon e praticamente le ho trovate le mie botte d'olio sbambam altro che bonbon e ho trovato tutte quelle che mi piacevano ok andiamo continuiamo l'apertura con questo che bello accessorio sì grazie giochi preziosi perché meno male che la fai cambiare di umore sì che bello è un vestito doppio progiralo è doppio ragazzi come vedete c'è un guonnellino e un toppino che bello sono contentissima sono contentissima andiamo a vedere l'accessorio che appunto confermerà sperpate sperpate confermerà che sia l'angelo vediamo qui troviamo queste cuffie le cuffie per la musica ragazzi no quali sono cuffie per il freddo vabbè comunque ragazzi se avete voglia di musica qua ci mettete una pila e via che bello che bello e ora la parte più bella dove andiamo a scoprire la bambolina super 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 felice e questa qui so che piace tantissimo anche a Riccialo 88 io spero tanto che tu riesco a trovarla perché è una meraviglia ragazzi è una meraviglia guardatela incinta di otto mesi guardatela è meravigliosa meravigliosa capelli bianchi da vecchia ma che vecchia poi quindi se mi stai guardando Riccialo 88 io spero tanto che tu riesca a trovarla perché è veramente stupenda vedete quanto si è incinta io adesso ma dai io adesso la vado a vestire ragazzi perché non gli amici andiamo a vedere se fa pipì ah fermo fermo un secondo no non fa pipì ragazzi questa non è che cambia colore dobbiamo vedere allora intanto la vesto sì era la mia preferita allora ragazze contate che lei era la mia preferita in assoluto oltre bonbon non piange ve lo dico già perché ha gli occhi chiusi i pallini era la mia preferita in assoluto insieme a bonbon e aspettate la regina di cuori ovviamente lei intende bam bam quello dei flinstone sì aspettate ovviamente per trovare bonbon bisognerà prendere la wave 1 che purtroppo in Italia non c'è ma quale wave 1 bisogna guardare i flinstone per trovare bam bam tell me bam bam aspettate ragazzi che ovviamente mi ha fatto sbagliare eccola qua madonna quanto sei bella mamma mia era il mio sogno trovare lei guardatela c'è ragazze mamma mia quanto è bella è bellissima spero cara lol che ascolterai buona musica allora vediamo se cambia colore abbassa aspettate che gli levo questo abbassa la ragazzi così è perfetta il visuale andiamo a vedere no 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 ragazzi andiamole da bere vediamo cosa succede meno male che hai curato il freddo perché con il ghiaccio che c'è la borracina sembrava cosa quindi sputa per forza ragazzi è ovvio l'unica cosa che è rimasta esatto non può fare altro io sono letteralmente fuori di testa perché veramente veramente io ringrazio infinitamente lo ringrazierò sempre lo dirò sempre infinitamente la giochi preziosi innanzitutto come ho detto prima per la collaborazione esatto per averci spedito il pacco perché ragazzi facendo la collaborazione con la giochi preziosi ci invieranno tantissimi pacchi con tutte le varie novità io le ringrazio appunto dicevo del pacco le ringrazio perché mi hanno dato appunto la possibilità di trovare Snow Angel che era la mia preferita in assoluto tra le mie preferite in assoluto ed è meravigliosa oh si è capottata poverina si è fatta la bua aspettate aspettate che però è di ghiaccio quindi ok volete che si fa un cavolo si fa questa qua ok eccola qua ed è l'amore della mia vita cioè boom aspettate che gli ho messo la connellina ma si vede leggermente il sedere ok in teoria ragazzi dovrei essere io l'amore della tua vita non la bambolina nel senso per quanto riguarda le lol Nico tu sei un'altra storia è ovvio che lui è l'amore della mia vita è normale oh mamma mia non si tiene niente la reggo così ragazzi perché non si tiene e niente questa è lei appunto e appunto se voi comprerete le ball e troverete questo indizio c'è la possibilità appunto di trovare lei se mai vi piaccia bene io ragazzi aspettate che non vi ho detto no snow angel è una fancy ragazzi eh una fancy e cos'è è più importante di una popolare diciamo allora e vai finalmente una che lavora in municipio e vai dopo tanto tempo ragazzi io ho scoperto perché cari voi lo sapete ve lo dico io ma non ci regge ma allora ha il simbolino del ghiaccio ragazzi vedete secondo voi cosa può fare può pattinare ovvio che cade se pattini no poi è imbranata a pattinare quindi voglio dire cioè e niente io sono stata super super veramente super fortunata veramente per tutto sia per le giochi preziosi che per le lol perché guardate rispetto alla serie 1 sono molto più fortunata in questa serie 2 perché sto trovando praticamente tutte quelle che mi piacciono quindi veramente sono contentissima meno male bene ragazzi questo video termina qua esatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video anche io ringrazio tanto la giochi preziosi per questa collaborazione appunto e siamo felici felicità esatto di averci inviato queste cose di averci reso felici perché per il nostro canale è importante noi speriamo ovviamente di salire perché comunque ragazzi contate che hanno preso noi che abbiamo un canale piccolo ma molto piccolo piuttosto che un altro canale che ha anche che ne so 4.000 iscritti cioè veramente noi ovviamente come come sanno ovviamente anche tutti gli iscritti e come sapete ci mettiamo anima e cuore anima determinazione impegno insomma tutte queste aggettivi o caratteristiche quindi e continueremo a farlo ecco nonostante lei mi abbia mi abbia detto per sette volte di chiudere il canale e pensate ragazzi se pensate ragazzi se io non avrei avrei ceduto no io sapevo che non avresti ceduto ma poi ma poi io a volte non so magari perché un canale youtube può capirmi a volte quando vedi magari che qualcuno si disiscrive oppure non mi piace su un video o dei commenti dove dicono magari non ci è piaciuto il video oppure anche commenti dove ti insultano perché è capitato cioè io mi abbatto ragazzi perché insomma dico cavolo ci mettiamo soldi a parte la collaborazione io parlo in generale ci mettiamo soldi ci mettiamo passione ci mettiamo come si dice lavoro perché comunque è un lavoro non retribuito in questo caso ci mettiamo proprio anima e cuore anima e cuore e tu ti trovi dove magari ti insultano oppure vedi che anche un iscritto anche uno che si disiscrive cioè io veramente dico cavolo allora non basta quello che facciamo perciò un attimo mi abbatto però niente poi quando vedo che appunto ci sono queste soddisfazioni dove la giochi preziosi ti contatta ti manda comunque LOL della seconda serie che sono uscite praticamente oggi perché oggi penso siano uscite ufficialmente te li mandano a casa gratuitamente perché io non sono una persona che dice si mi ha mandato la giochi preziosi il pacco però ragazzi contate che le collaborazioni sono gratis cioè nel senso noi collaboriamo con loro e sponsorizziamo i loro prodotti quindi perciò io ribadisco e li ringrazio li ringrazierò sempre in ogni video in ogni collaborazione che faremo perché è un'opportunità che non capita tutti i giorni soprattutto non capita a tutti e soprattutto non capita a tutti i canali piccoli di poter fare video di questo tipo per cui siamo contenti di comunque aver fatto questi video perché è una gran bella esperienza sicuramente sì poi vi abbiamo già detto ripeto che ci saranno molti eventi ci saranno tantissime novità sul canale per quanto riguarda la giochi preziosi tantissime cose adesso non vi sto a spoilerare già vi ho detto troppo ci sarà un evento punto e niente e speriamo appunto di salire di salire di iscritti perché come vi ripeto se noi saliamo di iscritti ci saranno giveaway per voi cioè le aziende mandano cose a voi interamente gratis quindi se voi vi iscrivete ci fate pubblicità ci fate salire cioè è un vantaggio anche per voi non solo per noi ma anche per voi soprattutto per voi perché alla fine tutto questo che è quello che facciamo lo facciamo sia per le aziende ma anche soprattutto per voi e quindi aiutateci appunto condividete il link del canale mettetelo su pagine facebook o quant'altro dove ci sono tantissime persone in modo tale da farci salire abbastanza velocemente questo è quanto ragazzi fatelo su ogni video perché è molto importante quindi noi insieme a la mia amatissima snow angel vi salutiamo vi diamo l'appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao